Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo subito con questo caso che ha sconvolto un'intera comunità, quella di Foiano della Chiana. La donna Letizia Girolami è trovata morta nelle scorse ore a Foiano della Chiana. Per questo omicidio è in carcere un 37enne. Si trova presso il carcere a Retino di San Benedetto a disposizione dell'autorità giudiziaria il 37enne di origini pakistane, che è stato fermato per l'omicidio di Letizia Girolami, la donna di 72 anni che è stata ritrovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana nelle scorse ore. La 72enne nella serata di sabato 5 ottobre non era tornata a casa. Il marito aveva denunciato la scomparsa. Era stata poi ritrovata con una ferita alla testa che agli inquirenti era subito apparsa compatibile con un'azione violenta. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Cortona hanno portato al 37enne, ex fidanzato della figlia. Al momento i due avevano interrotto la loro relazione, ma l'uomo abitava in una depandanza di proprietà della vittima. Potrebbe aver colpito la donna alla testa con un bastone, questa l'arma con cui verosimilmente si sarebbe consumato l'omicidio, ma ancora non è stata ritrovata. Il 37enne, interrogato subito dopo il rinvenimento del corpo, avrebbe prima reso una testimonianza poco convincente, poi avrebbe confessato l'aggressione, ma senza dare altri elementi agli inquirenti. Adesso si trova in carcere e domani ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto. Sarà invece l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Arezzo a chiarire le cause esatte della morte di Letizia. La donna, che risiedeva da 30 anni in un casolare di Foiano della Chiana, era molto conosciuta nella zona per la sua attività di psicoterapeuta e psicologa spirituale. Definita una donna solare e aperta, era tornata a Foiano per vivere proprio nel casolare del padre. L'omicidio, secondo le ipotesi dell'inchiesta, potrebbe essere l'epilogo di un'accesa discussione tra la 72enne e l'ex fidanzato della figlia. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio volontario. Ed è attesa per domani, dopo il rinvio dello scorso 17 settembre, la sentenza di primo grado sul caso del 54enne Sandro Mugnai, che il 5 gennaio del 2023 sparò con un fucile uccidendolo al suo vicino di casa di 59 anni, che con una ruspa gli stava distruggendo l'abitazione. Il 54enne è accusato di eccesso colposo di legittima difesa e viene giudicato con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso ovviamente di condanna. A costituirsi parte civile sono stati la moglie di Dodoli e i due figli appunto del 59enne. Il pilota dell'aereo faceva foto e chattava prima di precipitare e poi purtroppo morire. Nessun risarcimento. Questa la sentenza del Tribunale di Arezzo in merito alla morte di Massimo Giua, 63 anni, membro dell'aeroclub Etruria di Arezzo, che morì in un incidente aereo sulle prealpi svizzere. La famiglia aveva fatto causa all'aeroclub a seguito proprio dell'incidente che avvenne il 30 marzo del 2022. Secondo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale, l'uomo da solo dentro l'aereo che stava pilotando avrebbe appunto usato il suo cellulare per chattare con gli amici inviando loro anche alcune foto. Il Tribunale di Arezzo avrebbe ritenuto il comportamento del 63enne negligente, oltre al fatto che il bollettino meteo vietava di solvorare quelle zone per via della nebbia e del maltempo. E proprio il maltempo è quello che è previsto nelle prossime ore in Toscana. Una perturbazione consistente in avvicinamento da ovest interesserà appunto la nostra regione. Nella giornata di martedì 8 ottobre la Sala Operativa di Protezione Civile ha emesso un codice arancione per rischio idraulico del reticolo principale per temporali forti, valido fino alla mezzanotte di domani per quasi tutto il territorio regionale. L'importanza della prevenzione per proteggere un bene prezioso come quello della vista è l'obiettivo della giornata mondiale della vista che quest'anno si celebra il prossimo 10 di ottobre a livello mondiale e si stima che almeno un miliardo di persone soffra di disturbi della vista da vicino o da lontano che potrebbero essere prevenuti. Le visite gratuite programmate per il 10 di ottobre anche nel nostro territorio sono destinate a soggetti di età superiori a 40 anni che non siano già in terapia per patologie oculari. Potete prenotare la visita contattando il call center dell'ASL Toscana Sud-Est. Parliamo adesso invece di donazione di sangue. Ieri la giornata del donatore alla Fratres di Ponticino, una giornata davvero molto particolare. Sentiamo perché nel prossimo servizio e soprattutto chi si è presentato a Ponticino. Enzo Ghinazzi, Pupo, sentiamo. Qui la Fratres in qualche modo è anche questo che dice siamo uniti nel cercare di essere utili l'uno all'altro. La donazione del sangue è fondamentale. Quindi chiudendo questa chiacchiera ricordiamo che donare il sangue è molto molto importante, salva le vite e aumenta la qualità anche della vita del donatore perché fa anche bene, per chi lo può fare chiaramente, donare fa bene sia alla salute che all'anima. Non poteva mancare Pupo nella sua Ponticino per un giorno così carico di significati. La sezione Fratres di Ponticino, con una cerimonia religiosa nella chiesa del paese, è stata intitolata a Don Luigi Granelli, cofondatore assieme a Massimo Borri della stessa sezione e figura carismatica per tutta la comunità. Enzo Ghinazzi compreso. Sì, assolutamente, Don Luigi Granelli, storico parroco di Ponticino, ha passato tutta la vita qua, circa 70 anni a Ponticino, per cui io ho vissuto sempre con lui. Ho cominciato a cantare qui con lui, ero la prima voce del coro parrocchiale e mi ha fatto scuola di religione, non so se oggi si usa ancora, quando il parroco faceva scuola anche di religione, catechismo, alle elementari e alle scuole medie, e io ho avuto sempre Don Luigi. Ho fatto, praticamente ho passato la mia vita con lui, anche quando mi sono sposato, poi non è stato lui a sposarmi, perché mia moglie è del Casentino, di strada in Casentino, ma lui è stato sempre presente ai battesimi delle mie figlie, insomma, ha battezzato anche me, quindi, fantastico. La giornata è stata l'occasione per ribadire l'importanza della donazione di sangue. Il territorio aretino fa da traino per la Toscana, l'autosufficienza non è poi così lontana. In questa ottica, la fratres di Ponticino, con i suoi oltre 800 soci e quasi 600 donazioni all'anno, è indubbiamente un bel esempio da seguire. Su mille persone, su mille italiani, i donatori sono 22, quasi 23. E sicuramente per Ponticino questo limite lo supera ampiamente, quindi dimostra, come dicevo prima, non solo la capacità organizzativa, o meglio, sicuramente la dimostra, ma dimostra anche che l'associazione fratres è ben presente nel tessuto connettivo della città, del paese, e riesce quindi a coinvolgere un numero superiore di persone. E quindi complimenti per questo dato. Il momento più critico rimane quello dell'estate e poi la sfida per il futuro, coinvolgere sempre più giovani. Per le donazioni e per chi ha bisogno di sangue non ci sono periodi di ferie e quindi bisogna essere sempre pronti e attenti per essere presenti laddove c'è bisogno. Ecco appunto l'apertura domenicale in una vita in cui ormai l'organizzazione è veramente molto frastagliata, non ci sono giorni di riposo per tutti o di lavoro per tutti. In questo caso voi siete un punto di riferimento importante, voi come le altre associazioni, anche per i centri trasfusionali. Certo, sì sì, anche nelle aperture domenicali che non ci sono i soliti posti e le solite presenze di tutti gli altri giorni, però devo dire che riusciamo insieme alle altre associazioni a avere degli spazi per gli appuntamenti di ognuno deve avere il suo posto per poter fare questa donazione anche domenica perché ci sono anche il mondo del lavoro, purtroppo è cambiato tantissimo e quindi c'è bisogno anche della domenica. Bisogna spendere qualche parola di più per cercare di convincere i giovani ad avvicinarsi a questo mondo. Donare il sangue dà soddisfazione proprio dal punto di vista del ruolo che uno si sente di ricoprire in quel momento. senti di aver fatto un gesto reale, non è una presa di posizione, una solidarietà espressa a parole. Sono proprio fatti concreti, vite salvate, quindi questo è importante. 16 posti riservati alle donne per garantire un'esperienza di viaggio confortevole e sicura è l'iniziativa del gruppo La Ferroviaria Italiana sui treni del trasporto ferroviario toscano che collegano le due linee di Arezzo-Stia e Sinalunga. L'idea è semplice e al contempo molto concreta. Nei vagoni sono stati selezionati 16 posti appunto da riservare alle donne in prossimità della cabina di guida e seggiolini speciali. Sono indicati con un contrassegno di colore rosa così da rendere ancora più evidente l'esclusività del posto a sedere riservato appunto alle donne. Ed è una donna quella che è stata riconfermata alla guida del Consorzio Bonifica Alto Valdarno. Sentiamo. Prevale la linea di continuità amministrativa dell'ente. Questo quanto emerge dalle urne per il rinnovo della governance del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ossia un evidente netto consenso per l'attività svolta nell'ultimo quinquennio. Il dato più rilevante è infatti il successo netto registrato dalla lista più bonifica già alla guida dell'amministrazione consortile dal 2019 sulla lista libera bonifica. Altri due poi aspetti interessanti l'aumento della partecipazione dei consorziati al voto e ancor di più la plebiscitaria risposta dei rappresentanti dei comuni che assieme alla provincia di Arezzo si sono arrecchati al seggio per esprimere la loro preferenza. Sono 2.635 complessivamente i consorziati che hanno partecipato alla consultazione elettorale oltre 100 in più rispetto alla tornata precedente. Sono stati loro a consegnare la piena vittoria alla lista più bonifica in tutte e tre le sezioni. Riconferma nella prima sezione poi per Serena Stefani, presidente uscente che ha ottenuto ben 567 voti personali forte anche il consenso di Leonardo Belpiero suo vice nel mandato che si sta concludendo. Nei prossimi giorni sarà l'ufficio elettorale temporaneo a provvedere alla convalida degli eletti e alla conferma della composizione della parte elettiva dell'assemblea consortile. Ai nomi dei 15 membri usciti dalle urne si dovranno aggiungere i 12 nominati dal Comitato delle Autonomie Locali e un componente nominato dal Consiglio regionale toscano. L'assemblea, una volta insediata, sarà infine chiamata ad eleggere al suo interno presidente e vicepresidente e terzo componente dell'ufficio di presidenza. E siamo alla pagina della cultura a Lucignano, i tesori di Cosimo I De Medici l'inventore del Gran Ducato. Abbiamo riunito in questa importante occasione quelli che sono i simboli del potere medicio la corona, lo scelto, il toson d'oro di Cosimo I Granduca dei Medici e poi una piccola chicca per la prima volta al di fuori della mia bottega realizzata alcuni mesi fa il Gran Collare del Vasare una grande onoreficenza che fu consegnata dal Papa Pio V proprio per i grandi meriti di questo grande personaggio. A Lucignano i tesori di Cosimo I De Medici l'inventore del Gran Ducato. Un'esposizione allestita all'interno del Museo Comunale che vuol rendere omaggio ad una delle figure più emblematiche del Rinascimento Italiano non solo come sovrano illuminato ma anche come promotore della cultura e dell'arte. Noi abbiamo come missione raccontare la storia della famiglia Medici e farlo in Valdichiana è essenziale qui è dove Cosimo ha costruito ha iniziato a unificare l'intero territorio è qui che è nato il Gran Ducato di Toscana e oggi lo celebriamo grazie alla lungimiranza di questa amministrazione grazie alla sindaca Roberta Cassini ma anche grazie al presidente Eugenio Gianni che con un bando speciale sta consentendo al nostro museo come a tante altre realtà di viaggiare in lungo e in largo nella regione portare la storia di Cosimo I dei Medici è una bellezza poter vedere queste opere comunque dentro il nostro museo che già è un qualcosa di unico di suo dall'albero d'oro insieme a tutte quante le altre opere ed oggi qui abbiamo queste opere meravigliose del Museo dei Medici che richiamano Cosimo I, il Gran Duca ma c'è anche un medaglione ricreato dal grandissimo maestro Paolo Penco insieme allo scettro e alla corona di Cosimo I di Vasari e quindi a Lucignano abbiamo riunito il grande Cosimo I insieme a uno dei suoi artisti maggiori che era Vasari la mostra resterà aperta sino al 3 novembre 2024 una lunga pagina sportiva partiamo subito dalla vittoria dalla bella vittoria dell'Arezzo contro la Torres 2 a 0 tre punti davvero pesanti sentiamo allora il commento di mister Troise è stata una prestazione importante un risultato importante considerando la difficoltà della trasferta il blasone dell'avversario l'importanza dell'avversario che ha dato continuità rispetto all'anno scorso che ha fatto un campionato di vertice quindi veramente bravi tutti e poi siamo anche contenti per quei tifosi che purtroppo non sono potuti entrare ma ci hanno sostenuto prima di venire qui quindi va dedicato anche a loro insieme a tutto l'ambiente Arezzo abbiamo perso sia Righetti che Chierico sperando che non sia nulla di grave uno preoccupa un po' di più che Righetti perché ha subito una distorsione e quindi è un po' più preoccupante quella di Chierico che è a livello muscolare da valutare sperando che si sia fermato in tempo sono quelle partite che si giocano a 360 gradi secondo me veramente siamo stati bravi in tutto oggi anche nei momenti dove abbiamo dovuto concedere un palleggio a una squadra che gioca bene che comunque è un organico importante ecco se c'è una cosa da ramaricare forse nel momento in cui abbiamo realizzato il vantaggio potevamo sfruttare meglio qualche situazione di campo aperto dove ci siamo presentati diverse volte abbiamo creato diverse occasioni e quindi la partita la potevamo mettere in sicurezza un po' prima al di là del risultato importante di oggi diamo seguito secondo me a un filotto di partite compresa quella contro la Ternala dove abbiamo raccolto zero al cospetto di una prestazione importante dove abbiamo pagato a caro prezzo due errori individuali subendo due gol contro una squadra di grande blasone quindi la mentalità deve essere questa appunto come diceva lei per rimanere aggrappati il più possibile al gruppo di vertice e oggi l'hanno dimostrato va bene per i colori amaranto anche dell'Arezzo calcio femminile che tornano alla vittoria hanno infatti battuto l'orobica Bergamo per 3 a 0 grazie a tre gol segnati nel secondo tempo l'Arezzo calcio femminile ha battuto l'orobica Bergamo per 3 a 0 la gara si è giocata a porte chiusa allo stadio De Pini di Fogliano della Chiana a segno fracassa al 47esimo zitto su rigore al 66esimo ed infine lunghi nel primo minuto di recupero avevamo questa voglia immensa di riscatto dopo la brutta prestazione di domenica scorsa ma ci può stare comunque di perdere una partita anche con un grande avversario ma oggi abbiamo fatto una splendida partita e abbiamo portato a casa i tre punti e abbiamo giocato anche per Prinzi e quindi sono contenta veramente della squadra di quello che ci hanno messo e del cuore che ci hanno messo quindi complimenti alle ragazze hanno fatto una partita stratosferica tutte anche quelle che ovviamente sono subentrate ma come dico sempre chiunque entra e chiunque poi subentra darà sempre il massimo e darà sempre il 100% per questa maglia e l'abbiamo dimostrato ancora una volta abbiamo giocato tutte abbastanza bene soprattutto dopo domenica scorsa c'eravamo processate l'obiettivo di far bene di squadra di giocare con le nostre idee credo che oggi ci sia riuscito non dico perfettamente però comunque abbiamo sono tornata a giocare nel modo in cui vorremmo fare la primavera e siamo pronti a questa prestazione per le due squadre sono molto contenta di questo gol perché comunque diciamo che volevo comunque aiutare la squadra entrando in campo e avevamo voglia di riscattare comunque la scorsa partita mi è andata benissimo e diciamo che siamo alla prova che dagli errori si imparano e si esulta anche per quello che riguarda il basket perché l'ABC Servizi Arezzo ha battuto il Quarrata l'esordio al Palace Portestra porta in dote alla BC Servizi Arezzo i primi due punti in campionato al termine di una gara combattuta ed emozionante contro il CLS Quarrata parte deciso il quintetto di Fioravanti gli ospiti però rimangono in scia e il primo quarto finisce con la sbavanti di una sola lunghezza 19 a 18 nel secondo parziale la BC Servizi prova ad allungare prendendo 4 lunghezze di vantaggio prima di un break di 6 a 0 che porta Arezzo in doppia cifra di vantaggio in un momento di difficoltà Quarrata ha il merito di riuscire a bloccare l'attacco a Maranto fino al 37.30 dell'intervallo a rientro in campo Bischetti e Toia rilanciano ancora più 10 l'ABC Servizi ma i Pistoiesi non demordono i ragazzi di Coccia Fioravanti chiudono avanti 54 a 53 il terzo quarto i 10 minuti finali sono un susseguirsi di emozioni l'ABC Servizi si conquista con i denti 4 lunghezze di vantaggio che rimangono quelli decisivi per portarsi a casa un prezioso successo i punti della luneta di Prenga e il canestro di Balducci a tre secondi dalla fine fissano il punteggio sul 74 a 69 dell'ultima sirena che fa esultare il Palace Porta Estra che ha sostenuto la squadra Maranto per tutta la gara per la SBA una vittoria importante in vista di una serie di partite molto impegnativa a partire dal turno infrasettimanale in programma mercoledì alle 21 ad Empoli contro un'use ferita dalla sconfitta patita sul campo del Costone Siena quando si soffre si dice sempre che c'è anche più gioia l'importante era vincere c'è stato momenti di alti e bassi nella partita rispetto a Siena siamo stati un po' più concentrati perché abbiamo cercato subito di interrompere le emorragie che abbiamo avuto sulla bomba del meno tre potevamo essere a tre minuti alla fine potevamo crollare invece la dimostrazione che abbiamo una squadra con gli attributi che non molla mai e che fino alla fine insomma gioca per vincere una partita sofferta perché comunque il nostro obiettivo era di tenere unito un ritmo alto e infatti tutta la partita è stata un correre su e giù e su e giù però alla fine siamo riusciti ad avere la meglio e niente abbiamo preso la prima vittoria il tennis giotto ha aperto la serie a due femminile con una vittoria centrando con successo per 4 a 0 il primo turno contro il tennis training la formazione schierata da capitano Jacopo Bramanti ha fatto affidamento prevalentemente sulle ragazze protagoniste della triplice promozione consecutiva dalla C appunto alla serie a due che hanno subito dimostrato la loro preparazione anche nella nuova categoria iniziando la stagione nel migliore dei modi il fine settimana è stato ulteriormente arricchito anche dalla prima partecipazione in assoluto ai campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina dove il tennis giotto è riuscito nell'impresa di rientrare tra le migliori quattro formazioni della perisola è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e arrivederci grazie per la visione